pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il giorno del sabato santo è un giorno austero di silenzio di meditazione contempliamo la discesa di gesù agli inferi egli andò a liberare adam eva e tutte le anime dei giusti spalancando quelle porte del cielo chiuse in seguito al peccato gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e le ha raggiunti con la sua anima nella dimora dei morti ma egli vi è disceso come salvatore proclamando la buona novella agli spiriti che vi si trovavano prigionieri sentite che belle le parole di un autore del secondo secolo che cosa è avvenuto oggi sulla terra c'è grande silenzio grande silenzio e solitudine perché il re dorme la terra è rimasta sbigottita e tace perché il dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi egli vuole scendere a visitare e liberare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze ad amo ed eva che si trovano in prigione il signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce appena ad amo il progenitore lo vide percuotendosi il petto per la meraviglia gridò a tutti e disse sia con tutti il mio signore e cristo rispondendogli è con il tuo spirito e presolo per mano lo scosse dicendo risorgi dai morti io sono la vita dei morti risorgi opera delle mie mani risorgi mia effigie fatta mia immagine risorgi usciamo da qui tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura ecco miei cari il sabato santo è un mistero grande pensate che in nessuna parte del mondo oggi viene celebrata la messa il sabato santo è preludio alla pasqua dove appunto contempliamo la discesa di cristo negli inferi ma in fondo chi di noi non riconosce in sé la presenza di questi inferi quante zone del nostro cuore sono ancora tenebrose chiuse alla grazia quante aree della nostra intelligenza non sono evangelizzate quanti territori di incredulità in noi quanti luoghi dove dio non c'è e nei quali ognuno di noi nulla può se non invocare la discesa di cristo perché la illumini la liberi la trasformi a ragione benedetto sedicesimo ha detto che nel nostro tempo specialmente dopo aver attraversato il secolo scorso l'umanità è diventata particolarmente sensibile al mistero del sabato santo il nascondimento di dio fa parte della spiritualità dell'uomo contemporaneo in maniera esistenziale quasi inconscia come un vuoto nel cuore che è andato allargandosi sempre di più sul finire dell'ottocento nice scriveva dio è morto e noi l'abbiamo ucciso questa celebre espressione a ben vedere è presa quasi alla lettera dalla tradizione cristiana spesso la ripetiamo nella via crucis forse senza renderci pienamente conto di ciò che diciamo dopo le due guerre mondiali e l'attuale come l'ha definita il papa la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un sabato santo l'oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita in modo particolare noi credenti che abbiamo a che fare con questa oscurità e tuttavia miei cari la morte del figlio di dio ha un aspetto opposto totalmente positivo fonte di consolazione di speranza potremmo dire che il sabato santo è la terra di nessuno tra la morte e la risurrezione ma in questa terra di nessuno è entrato uno l'unico che l'ha attraversata con i segni della sua passione per l'uomo dio in gesù ha condiviso non solo il nostro morire ma anche il nostro rimanere nella morte la solidarietà più radicale dunque miei cari cosa vuol dire che gesù è disceso agli inferi vuol dire che dio fattosi uomo è arrivato fino al punto di entrare nella solitudine estrema e assoluta dell'uomo dove non arriva alcun raggio d'amore dove regna l'abbandono totale senza alcuna parola di conforto gli inferi appunto gesù rimanendo nella morte ha oltrepassato la porta di questa solitudine ultima per guidare anche noi a oltrepassarla con lui tutti abbiamo sentito qualche volta una sensazione spaventosa di abbandono di schiavitù di impossibilità di uscire da una determinata situazione e lo sconforto l'angoscia ci hanno attanagliati come da bambini abbiamo avuto paura di stare da soli nel buio e solo la presenza di una persona che ci ama ci ha potuto rassicurare ecco questo è quello che è accaduto nel sabato santo nel regno della morte è risuonata la voce di dio è successo l'impensabile che cioè l'amore è penetrato negli inferi anche nel buio estremo della solitudine umana più assoluta noi possiamo ascoltare una voce che ci chiama e trovare una mano che ci prende e ci conduce fuori molto bello nell'iconografia orientale gesù viene rappresentato mentre prende per mano adamo ed eva e li tira fuori dal sepolcro e ciò che il signore gesù vuol fare con ciascuno di noi scendere scendere nei nostri inferi scendere nelle nostre solitudini scendere in quei luoghi irrisolti laddove non ci sentiamo amati laddove ci troviamo incastrati nelle nostre prigionie chiusi nei nostri peccati rinchiusi nelle nostre angosce e tirarci fuori l'essere umano vive per il fatto che è amato e può amare e se anche nello spazio della morte è penetrato l'amore allora anche là è arrivata la vita nell'ora estrema della solitudine non saremo mai soli non saremo più soli perché cristo è sceso e continua a scendere per tirarci su con sé questo è il mistero del sabato santo proprio là dal buio della morte del figlio di dio è spuntata una luce di speranza nuova la luce della risurrezione dunque caro fratello cara sorella ti auguro di vivere in pienezza questo giorno ritagliandoti qualche minuto per sostare davanti a questo mistero grande d'amore e non aver paura sappi che nella tua solitudine non sei più solo sappi che qualcuno non teme di scendere nelle zone più recondite del tuo cuore laddove neanche tu hai il coraggio di guardarti di accoglierti qualcuno vuol scendere proprio lì anzi proprio lì è sceso proprio lì ti sta amando e ti sta tendendo la sua mano perché prendendola tu possa risorgere con lui che il dio vi benedica pace e bene a tutti